2250 l'Olanda parte meglio nel quarto set. Nel quale l'Italia è subito costretta a inseguire. Team out chiamato dal tecnico azzurro De Giorgi. 2-2-4-5, 2-2-4-2 il terzo set, ed è l'Italia che supera così nel primo l'Olanda vittoriosa Romano segna il Punto decisivo. 2237 punto di Galassi e poi smash vincente di Romano dopo una grande difesa azzurra Italia 9 Sull'Olanda nel terzo set. 2232 Ace Micheletto. Poi un errore di Nimir e un punto Romano per il lotto dell'Italia Che nel terzo set si porta a 6 sull'Olanda. 2227 un muro di Giannelli e poi un errore olandese Permettono all'Italia di volare a 5 sull'Olanda. 116 nel terzo set. 2224 il punto Micheletto e poi l'errore Iorna che permette all'Italia salire 3 punti sull'Olanda nel terzo set. 2219 buon inizio per l'Italia nel secondo set con Giannelli al servizio subito due muri vincenti e l'Olanda costretta a inseguire. 2-2-1-8. 2-2-1-1 dopo la schiacciata vincente di Romano arriva muro di Galassi che chiude il 2517 per gli. Azzurri l'Italia vince secondo set contro l'Olanda. Ristabilendo la parità. 2207 Ace di Micheletto che mantiene l'Italia a 5 sull'Olanda nel secondo set 2204 muro vincente. Dell'Italia che vola così a 5 contro l'Olanda nel secondo set. 2201 un Ace di Romano confermato dal check dell'Olanda riporta l'Italia sul 4. 2158 l'Olanda prova a rimontare ma l'Italia tiene le distanze altra schiacciata di Lavia per mantenere il 3. 2153 buon inizio per gli azzurri che volano sul 3 con due schiacciate vincenti di Lavia. L'allenatore dell'Olanda chiama un time out. 2148. 2144 dopo l'infortunio di Russo. L'Italia ha avuto un notevole calo e l'Olanda ne ha approfittato. Chiudendo il primo set con Nimir. 2141 Italia in difficoltà un Ace di Nimir fa volare l'Olanda e manda gli azzurri a 5 in questo primo. Set 2138 Italia sotto di 3 punti e altro time out pensate a Russo o facciamo la partita dice il tecnico De Giorgi agli azzurri. 2135 l'Olanda supera e coach De Giorgi chiama time out per l'Italia. 2134 scossa dal CO di Russo. L'Italia subisce il ritorno dell'Olanda Nimir segna il pareggio. 2133 infortunio per il giocatore russo distorsione alla caviglia in una caduta. Il gioco si ferma e riprende con l'ingresso di Sanguinetti al posto di Russo. 2128 confermato l'Ace di Romano dopo un check fischiato dall'Olanda primo vantaggio italiano sul 1210. 2126 ancora un muro azzurro per l'Italia che per la prima volta è in vantaggio nel punteggio. L'Olanda chiede un time out. 2123 buon momento per gli azzurri che sembrano aver alimentato il muro di Russo ristabilisce la parità. 2120 parte meglio l'Olanda. Guidata da Nimir Abdelaziz già due schiacciate vincenti e un Ace per lui e l'Italia costretta a inseguire in questo primo set. 2116 sono iniziati i quarti di finale del Palaflorio prima di servizio per l'Italia in maglia bianca. Con bordi celesti. L'Olanda in blu con bordi arancioni. 2111. 2109 Italia. Il presidente Manfredi gli europei itineranti stanno bene e adesso tifiamo per i ragazzi. Ciaspe.